Diego Della Valle, buonasera. Buonasera, imprenditore, presidente, amministratore, delegato del gruppo Toz, lo conoscete tutti. Allora, dottor Della Valle, la volta buona si riparte per davvero? Beh, speriamo di sì. Mi pare che i segnali che ci stanno arrivando ci fanno ben sperare. Direi però, non sono io un tecnico che può capire di virus e cose varie, ce ne sono già tanti, ma direi che bisogna stare ancora attenti perché nulla è smantellato e allora ripartiamo con la voglia di fare ma con l'attenzione che ancora nulla ha messo in sicurezza. Quindi in questo senso ripartiamo. La voglia per ripartire c'è, si respira ad ogni angolo di strada. Quindi ci siamo. Dottor Della Valle, ci dia una mano. Lei sempre ci aiuta a capire le cose perché parla in maniera molto chiara, molto naturale, però è uno che gira il mondo, che vede le cose. Che impressione ha? Noi ripartiamo grazie a Mario Draghi che ha commissariato la politica o grazie ai politici che si sono fatti da parte e hanno lasciato lavorare Mario Draghi? Beh, io direi ripartiamo intanto perché il Paese, gli italiani e i cittadini hanno una grandissima voglia di farlo. Io credo in questa, diciamo così, polemica continua se Draghi è il meglio, il peggio o chi era meglio prima o dopo. C'è solo da dire che Mario Draghi è la persona adatta per fare quello che sta facendo e non potevamo avere nulla di meglio senza togliere niente magari a qualche altro politico in gamba. Quindi Draghi ci sta dando una grande mano sicuramente e soprattutto in queste cose la reputazione, il rispetto che le persone hanno tra di loro, la conoscenza che le persone hanno come credo Draghi abbia a livello europeo e mondiale, in questo momento ci servono e ci aiutano molto. Non c'è dubbio, bisogna farlo lavorare tranquillo. Qual è la cosa più brutta che si ricorda di quest'anno di sofferenza, di pandemia e qual è la cosa più bella? Guardi, la più bella è la solidarietà delle persone, quello che abbiamo visto, abbiamo visto delle cose incredibili in senso positivo per cui ho sempre pensato che il nostro fosse un popolo di gente generosa, il popolo vero, quello delle città, delle province. Bene, questa volta l'abbiamo toccato con mano. La cosa peggiore è lo smarrimento che c'è stato perché nessuno di noi era abituato a vedere quello che è capitato. Quindi in questo caso però rivedo ancora delle cose positive, per esempio parlando della mia azienda ma questo l'ho visto in aziende di altri amici, piccole e grandi che siano, c'è stato uno spirito di corpo delle persone nel fare, voglio dire, quello che serviva, incredibile. Quindi questo mi ha fatto crescere il rispetto per la gente che è con me e per tante persone che pur nel disagio si sono dimostrate pronte a dare una mano a chiunque. Come abbiamo ottenuto. Questo ci farà comodo anche nella ripresa, nella ripartenza. Senti, io la riporto sul ruolo di Mario Draghi perché fatto sta che la politica è stata in qualche modo commissariata dal ruolo dell'ex presidente della Banca Centrale. Perché anche questa volta l'emergenza in Italia è stata affidata a un tecnico? Beh, io direi che questa non è un'emergenza normale e non è un'emergenza che abbiamo mai visto prima, forse con la fine dell'ultima guerra. Quindi direi che in questo caso non è routine e serve una persona con delle capacità e, come ho detto prima, delle conoscenze, una reputazione molto speciale e molto particolari. E questo Draghi ce l'ha per quello che ha fatto nel suo lavoro e per la reputazione che ha in giro per il mondo. Io direi commissariare no. In questo caso la persona giusta è lui, lavora lui, dobbiamo farlo lavorare. Non bisogna commissariare lui, nel senso che la politica non deve, nel cercare di avere magari un punto in più di consenso, creare difficoltà a lui e al governo che sta lavorando. Quindi non voglio dire commissariare, è una brutta parola, e direi anche offensiva per la politica, quella buona, per la politica che non è buona va benissimo. Però direi commissariare no, però lasciamolo lavorare e non sia la politica a commissariarlo. Oggi, vede, dottore, c'è un'occasione incredibile, c'è un mondo di giovani politici da destra a sinistra come non abbiamo mai avuto, in alcuni casi anche molto capaci. Bene, loro devono essere i primi a lavorare col governo, sia che siano dentro al governo o che siano fuori dal governo, anche perché li stanno costruendo Draghi e compagni, stanno preparando l'Italia di domani e quella la dovranno gestire loro. quindi facciamo in modo che tutto funzioni e soprattutto facciamo in modo di non perdere la reputazione buona che il paese ha, perché non è vero che il paese fuori ha una reputazione non idonea, come qualcuno dice. Il nostro è un paese ben reputato, facciamo lavorare le persone e guadagniamoci la fiducia di quelli che ci stanno sostenendo in questo momento. Senta, se io la dovessi leggere con un po' di malizia questa sua dichiarazione, però leggerei, guardate, è un'occasione unica, c'è Draghi, adesso siete giovani, mettetevi da una parte, studiate, preparatevi, ma lasciate lavorare, andiamo avanti, diciamo, senza che voi dobbiate rovinare nulla. È questo che dice ai giovani politici delle nuove generazioni che dovevano guidare il paese. Sono d'accordo, la penso assolutamente come lei e è la cosa giusta da fare e mi auguro anche che lo faremo. In parte lo stanno già facendo, obiettivamente. Va tolto l'acceleratore su quelle che possono essere delle strategie elettorali di corta visione, perché il problema oggi è un problema enorme e l'occasione è un'occasione irripetibile. Non capiterà mai più di avere tanto denaro a nostra disposizione per aiutare il paese a diventare un paese moderno come alcuni dei paesi europei che ci stanno vicini. Non ricapiterà più e non dobbiamo perdere questa occasione. Ecco, però parlare di politici che sono stati già o presidenti del Consiglio dei quarantenni come Matteo Renzi oppure ministri degli esteri come Di Maio, ministri degli interni come Salvini o aspiranti leader del paese come Giorgia Meloni come dei ragazzi che adesso è meglio che non disturbino il manovratore colpisce. No, io direi che sono ragazzi che non devono disturbare il manovratore non è corretto. Io direi che sono delle persone giovani che si sono guadagnate alla pagnotta perché quello che hanno non gliel'ha regalato nessuno e che devono avere la lungimiranza di dare una mano in questo momento a Draghi che ha un'operazione da fare e da costruire imponente, immane. Quindi lasciamo perdere il piccolo punto in più o in meno nei sondaggi vediamo a lungo e sosteniamo il governo perché ha bisogno del sostegno di questi politici. Hanno la fortuna di essere giovani che è un pregio hanno bisogno ancora di imparare come tutte le persone giovani anche se questi sono particolarmente scafati detto questo voglio dire diano una mano e pensino al paese e non ai piccoli giochi di bottega se qualcuno li vuole portare avanti non è il momento e credo anche che il paese non apprezzi oggi abbiamo tutti bisogno che le cose funzionino. Stesso discorso dottor Dellavalle si può fare per gli imprenditori hanno capito che c'è tutto un mondo intorno in molti casi. Certo, certo gli imprenditori molti come ha visto in quest'ultimo anno si sono dati da fare come dico io bisogna esporsi dobbiamo uscire a volte dal guscio delle nostre imprese anche se le imprese ci portano via tutto il tempo che abbiamo a disposizione adesso dobbiamo farci vedere e soprattutto dobbiamo fare delle operazioni anche noi lungimiranti pensando al paese e dobbiamo far capire al paese che noi ci siamo siamo italiani stiamo qua non ci muoviamo e cerchiamo di fare il meglio per le nostre persone. Grazie Diego Grazie a tutti